Anticipazioni Grande Fratello 15, cambia la programmazione, la decisione sciocca Grande Fratello 15 anticipazioni, ecco come cambia la programmazione del reality show. Il Grande Fratello 15 cambia già giorno di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dalla seconda puntata in poi la trasmissione condotta da Barbara D'Urso non sarà più trasmessa di martedì, così come è accaduto con la puntata d'esordio che questa settimana ha ottenuto un ascolto medio di oltre 3.7 milioni di spettatori. Quando andrà in onda la prossima puntata del reality show? La nuova programmazione del Grande Fratello 15 dalla seconda puntata. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la seconda puntata del cancelletto Grande Fratello 15 è in programma la prossima settimana su Canale 5 di lunedì sera, così da poter lasciare spazio di martedì alle partite di Champions League che andranno in onda in chiaro sulla rete Ammiraglia Mediaset. Una decisione che tuttavia potrebbe rivelarsi un vero e proprio colpo mortale per il GF 15, visto che di lunedì su Rai 1 cè la temutissima concorrenza del commissario Montalbano, che anche in replica appassiona una media di quasi 7 milioni di italiani. Tuttavia possiamo svelarvi che al momento è questa la programmazione ufficiale del Grande Fratello per le prossime due settimane di messa in onda in tv, la seconda e terza puntata, infatti, saranno trasmesse rispettivamente il 23 e 30 aprile, dopodiché dovrebbe tornare in onda di nuovo di martedì sera. Ecco cosa sta succedendo nella casa del GF 2018. Le ultime news. Nel frattempo allinterno della casa del GF 15 abbiamo visto che il clima comincia a farsi abbastanza caldo. Nelle ultime ore, infatti, cè stata la prima vera discussione accese che ha avuto come protagonista Lucia Bramieri, la quale si è scagliata duramente nei confronti del concorrente definito da Barbara Durso il Tarzan di questa edizione per i suoi capelli lunghi. La Bramieri, infatti, non gradisce per niente l'aria d'assacente del giovane concorrente che con il suo modo di fare sembra quasi voler dare dei consigli e fare l'esperto della situazione con tutti gli altri concorrenti che cominciano a non gradire il suo comportamento. E poi ancora in queste ore hanno fatto molto discutere i post social pubblicati da Danilo sulla sua pagina Facebook, dove usa termini e affermazioni molto gravi nei confronti degli omosessuali e dei migranti. Ecco che Cristiano Malgioglio ha promesso ai suoi follower che farà chiarezza su queste gravi esternazioni di Danilo nel corso della prossima puntata del GF 15. Cancelletto Grande Fratello 2018 Anticipazioni Cancelletto Grande Fratello 15 Anticipazioni. Cancelletto Grande Fratello 15 Anticipazioni